Tortoreto conta i danni, anche qui il maltempo ha lasciato il segno tangibile della forza della natura. Due territori distinti, da un lato la costa e dall'altro la zona alta del paese. Danni differenti, ma somma unica. I danni più genti sulla viabilità sono all'interno, perché abbiamo delle frane che si sono accentuate o aggravate, tipo la zona di Terra Bianca, di Cavatassi e quindi di Tortoreto Alto. Oltre al fatto che a Tortoreto Alto siamo privi di acqua, ma questo il ruzzo ce l'ha già segnalato, pare che si riesca a ripristinare la situazione per domani ed è un problema limitatamente alle scuole, soprattutto per l'uso dei servizi igienici e quindi a livello di acqua potabile. Se già tanto si era fatto per cercare di rilanciare la costa, puntando su un turismo stagionale che avrebbe dovuto dare da lavorare a tanti, tantissimi esercenti e addetti ai lavori, oggi si torna a spendere oltre 100.000 euro solo per ripulire le spiagge dai detriti. La stima indicativa è stata fatta all'intorno, se vogliamo monetizzare come giusto che sia, di 250-260.000 euro, questo considerando anche qual è il costo unitario per ogni albero caduto, per la manutenzione degli alberi esistenti, soprattutto per il problema dello spiaggiato, perché Tortoreto per esempio aveva appena finito di ripulire le sue spiagge dalla ondata di vento di dicembre ed ecco che ci troviamo di nuovo in questa situazione, quindi per lo smaltimento comunque dei rifiuti. Frane e danni lungo le strade provinciali e nell'entroterra, ancora interruzioni di forniture energetiche e ancora uomini a lavoro extra. E abbiamo poi una strada invece nostra interna interessata allo stesso da una frana e sulla quale chiaramente stiamo provvedendo al meglio per poter ripristinare i luoghi.